Mudo, la telecamera disposta, Lotito tenta in mano di guadagnare il cerchio del campo, poi perde qualcosa, le agendine scivola a terra, De Cesare impietoso, infierisce su Lotito, tra poco vedrete, Lotito ha avuto lo stiramento, però la corsa di Lotito ad una certa età per tentare di evitare il quarantenne De Cesare che è comunque fisico integro, e vedete poi, arrivano anche gli altri e sono, vedete, Lotito, stiramento, vestito bagnato, non aveva altri, era meglio si prendeva il gavettone, ha rischiato di farsi male veramente, anche perché lo stiramento pare c'è stato veramente, dopo è stato cosetto, non so adesso in che condizioni è, però era meglio prendersi l'acqua. Vedi, infatti la difficoltà, torniamo in studio.